Ciao! In questo richiestissimo video ti parlo di che cosa sono gli ETF nel dettaglio, come investire in ETF e quali sono i migliori ETF in cui investire. Oltre a questo ti parlerò anche dei vantaggi e degli svantaggi degli ETF e come puoi compensare alcuni di questi svantaggi in modo tale da migliorare il rendimento del tuo investimento. Recentemente ho iniziato a cercare altri modi per diversificare ulteriormente il mio investimento e investire in ETF è stata una delle cose che ho preso in considerazione maggiormente. Quindi ecco questo video nel quale ti parlo di quello che ho scoperto sugli ETF. In pratica ETF significa Exchange Trade Fund ovvero fondo negoziato in borsa ed è un vero e proprio fondo di investimento che raccoglie milioni o miliardi di capitale in euro, dollari o altre valute e poi questi vengono investiti in maniera diversificata su azioni, su ETF, su obbligazioni, su titoli di stato e altri strumenti finanziari come materie prime o altro. In questo modo l'ETF è in grado di creare un portafoglio diversificato in maniera eccezionale. Così quando noi compriamo un'azione dell'ETF che è scambiata in borsa come una qualsiasi altra azione di qualsiasi società allora acquistiamo una piccola percentuale di quel singolo ETF e quindi abbiamo accesso a quella diversificazione dell'ETF completo in rapporto a quante azioni abbiamo dell'ETF. Ad esempio se un ETF è composto dal 20% di azioni, il 20% obbligazioni, 20% titoli di stato, 20% materie prime e 20% di soldi liquidi, allora quando noi andiamo a comprare una singola azione di quell'ETF avremo accesso ad una diversificazione pari a quella dell'ETF. Quindi se compriamo un'azione dal valore di 250 euro, 50 euro saranno in azioni, 50 euro in obbligazioni, 50 euro in titoli di stato, 50 euro in materie prime e 50 euro in cash liquidi sotto forma di singola azione dell'ETF. Come detto, le azioni di un ETF possono essere comprate in borsa, proprio come qualsiasi altra azione di una singola società. Ma come viene stabilito il prezzo di quest'azione dell'ETF? In realtà è molto semplice. Il prezzo base, anche detto NAV o Net Asset Value, è determinato dalla media pesata dei prezzi delle singole azioni o strumenti finanziari che compongono l'ETF. Questo è il prezzo base dell'ETF, cioè il NAV. Ma ovviamente, essendo scambiato nel mercato, il prezzo istantaneo dell'ETF può fluttuare attorno a questo NAV. Alcune volte potremo comprare un'azione dell'ETF ad un prezzo in sconto, cioè inferiore al suo valore, al suo NAV. Altre volte potremo comprare un'ETF ad un prezzo premium, cioè maggiore rispetto al suo NAV. Comunque ci sono dei meccanismi che permettono al valore dell'ETF di non oscillare troppo rispetto al suo NAV, ma questi sono un po' complicati. Magari li potremo vedere in un prossimo video. Ora, come funziona un'ETF e come opera? In realtà un'ETF non può comprare l'intero mercato, ma solamente una piccola parte di questo. Gli ETF sono, nella quasi totalità dei casi, degli strumenti passivi, cioè non cercano di battere il mercato, di superare il rendimento medio del mercato, ma cercano di replicarlo. Gli ETF infatti seguono un certo indice, detto benchmark. Ad esempio esistono degli ETF che seguono lo Standard & Poor's 500 e comprando un'azione di quest'ETF che replica l'indice americano che segue le 500 società di maggiore capitalizzazione sul mercato americano, allora abbiamo accesso alla diversificazione su queste 500 società. Gli ETF che replicano lo Standard & Poor's 500 sono solo alcuni di tutte le migliaia di ETF che esistono sul mercato. Ogni ETF può replicare un indice diverso o un sottoindice. Ad esempio esistono degli ETF che replicano i mercati emergenti. Esistono degli ETF che replicano il mercato asiatico ad esempio. Ci sono ancora un paio di cose da sapere sugli ETF. La prima caratteristica di un ETF è il tipo di replica dell'indice. Infatti esistono degli ETF che replicano interamente un indice, cioè lo copiano al 100% nella sua composizione. Questo rende l'ETF estremamente affidabile, ma ovviamente i costi di gestione per seguire l'indice in maniera esatta aumenteranno. L'alternativa è un ETF ottimizzato che replica a grandi linee l'indice di riferimento. In questo caso l'ETF è composto solamente dalle maggiori società dell'indice di riferimento. I costi si abbassano di molto, ma si riduce anche la precisione nella replica dell'indice. Un'altra distinzione tra gli ETF è che esistono ETF a distribuzione ed ETF ad accumulazione. I primi, gli ETF a distribuzione, quando ricevono dei dividendi dalle società in cui hanno investito, distribuiscono questi dividendi agli azionisti dell'ETF e così noi che investiamo nell'ETF a distribuzione otteniamo un flusso di cassa periodico. Gli ETF ad accumulazione invece fanno l'opposto. Quando ricevono dividendi dalle società in cui hanno investito, questi dividendi vengono reinvestiti all'interno dell'ETF, aumentando il valore complessivo di una singola azione dell'ETF dell'ETF complessivo. Da un lato gli ETF a distribuzione ci permettono di guadagnare attraverso i dividendi, al cash flow. Dall'altro gli ETF ad accumulazione ci permettono di guadagnare attraverso delle plusvalenze, dei capital gains. Questa è una cosa da tenere a mente quando vogliamo investire in ETF, perché per entrambi i tipi di ETF ci sono dei pro e dei contro. Detto questo, quello che voglio dirvi è che gli ETF sono il modo migliore di iniziare a investire in azioni se non sappiamo da che parte iniziare. Ci sono molti vantaggi nell'investire in ETF. Il primo tra tutti è la semplicità. Il funzionamento di un ETF è molto chiaro. L'ETF segue un indice e non specula in alcun modo. Inoltre un ETF con solamente poche decine di euro ci permette di avere accesso a una diversificazione enorme e ottenere delle quote dell'intero mercato globale volendo. All'estremo infatti esistono degli indici World, che replicano un indice mondiale. Con una singola azione di questo ETF World possiamo avere accesso ad azioni americane, ad azioni europee e ad azioni asiatiche. Il capitale investito è davvero basso. Immaginate quanti euro di commissioni per l'acquisto di azioni singole per ottenere una tale diversificazione sarebbero necessari. Molti di più rispetto ad acquistare una singola azione dell'ETF. Da questo punto di vista l'ETF è molto efficiente. Il vantaggio assoluto di un ETF, che è passivo, è che non ha bisogno di management e non ha bisogno di analisti, che devono essere pagati ovviamente. I costi di gestione, cioè i costi che alla fine paghiamo noi, sono veramente bassissimi nel caso di ETF. Sto parlando di costi inferiori all'1%, molto spesso attorno allo 0,40%, in alcuni casi estremi si arriva anche allo 0,04%, cioè se investiamo 10.000 euro paghiamo solamente 4 euro di commissioni annuali per investire in un ETF. Praticamente niente rispetto ad investire in un fondo comune di investimento che ci chiede il 3% in un anno. Se sei alle prime armi, fai un sacco di ricerche sugli ETF e inizia da qui e per investire. Sono uno strumento molto semplice, pratico e soprattutto economico. Questo conclude il video sugli ETF. Spero che ti sia stato utile e se è così lascia un bel like. E se sei nuovo sul canale iscriviti e attiva la campagna di notifica per non perderti altri video di questo tipo. Noi ci vediamo al prossimo video. Grazie mille per aver guardato.